salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco sto continuando dalla puntata scorsa dove abbiamo trovato qualche informazione all'interno dell'osservatorio ma i rinnegati a quanto pare quindi gli scagnozzi di waltz ci hanno seguito e quindi adesso dobbiamo tenerli a bada e successivamente capire che cosa fare quindi riprendiamo la nostra avventura e vediamo il da farsi e quindi posso ucciderli praticamente tutti tutti stealth oh cazzo ma porca troia si vabbè questo mi ha visto così a caso completamente a caso l'ho visto non mi ricordo ecco qua una bella petata vabbè l'abbiamo risolta alla maniera spartana eh già non avrei so la challa le informazioni sul sistema del GRE sembra essere targetti targetti per misilistri misilistri? cosa stai parlando? il protocollo di sicuro non abbiamo molto tempo ascoltate questo marca il riverende e il garrisono è nel l'ultimo centrale la gente vive là tu devi prendere ok 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 frank frank your neighborhood is marked on some tactical map you have to tell people to evacuate come on no time to explain just clear everyone out of there frank shit ok on it open the fuck up just wait here I'll try to get through to them from above and take them out and take them out you're safe here heard a lot about you might say I'm a fan oh yeah you want an autograph oh yeah oh rip good hair gonna take them falls with your car but who is here a 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 i really don't like the hold on easy non so se mi posso craftare altre frecce in realtà perché le vorrei craftare però non so se ho ecco dardi dardi da balestra si peccato non poter convertire le frecce in dardi sarebbe stato comodissimo io qua in realtà l'arco ce l'ho ma fa un po cagare e questa è ottima come come arm però ci sono tutte armi che sono scarsissime non ho niente da fare qua ecco vediamo cosa è successo ora a veronica veronica you there veronica talk to me i had to get out aiden i'm sorry i felt trapped in there ok where are you i headed towards the elevators veronica what's happening someone's hearing oh no 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 veronica she was here that's her radio find her you heard the last we're moving the vault ma più che altro è perché lei ha la chiave aiden alz he's here so fight me soon hurry up agent please someone's there veronica hold on veronica talk to me ma vaia quando non si deve arrampicare non si arrampica si ma quello è in mezzo si può trasformare eh vedi me lo segnala tipo tipo zombie super potente che vabbè più che zombie nemico super potente veronica get away fucking key give it to me aria di sierra giubi just run i'll stop him why do you need this key fucker what have you done with me a little boy you're a lost cause give me the fucking key what have you done with my sister she's long gone no i'll kill you non funziona si vabbè ma schivo e non e non fa e vabbè ha gli attacchi fotonici questo cioè mi colpisce a caso se vabbè hulk ora ci siamo ora mi trasformo in gear no scherzo attenzione là a no 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 Oh cazzo Ha ucciso Veronica Le gambe gli ha strappato, madonna mia I missili Madonna, povera Verongelo E' contaminato Dalla roba chimica Sì, no, tutti quanti Non sono soggetti alla contaminazione chimica Guarda che sono belli freschi Ha un passo dalla morte Oh vera Verongelo Grazie a te Grazie a te Tu hai bisogno di perdere Tu mi ha scoperto E non mi ha scoperto Non mi ha scoperto Non mi ha scoperto Luan Wow Non mi sembrava che ho aspettato Ma che Che c'è Che c'è Che c'è E che c'è Qui c'è Un piccolo Grazie Vurre Non lo capisci Luan I You what? I um I killed Veronica What? I killed her And not only that I'm turning I saw Veronica's body It was torn as if by a volatile You couldn't It was me Waltz's experiments Back then in the hospital There was nothing in the GRE database about Mia But about the drug Waltz was giving us It had the greatest effect on me Waltz told me that Mia's dead I have to get away from here I'm a threat if I stay to Not to everyone What if he lied to you And Mia's alive And even if not You didn't kill Veronica Aiden That wasn't you I repeat That was not You If this transformation Is because of Waltz Then we're going to make him fix it Got it? I'll help you How? Waltz created the inhibitors He must know how to counter their effects What was this? Explosioni Come on Probably another building collapse Ma come ha fatto a portarlo fino a lassù? Oh my god The butcher He's finishing what he started 11 years ago Undici anni fa He used the key That's when this all started What are you talking about? Dylan didn't want Waltz getting the GRE key He knew the whole city would be at risk And Waltz took the key from Veronica And escaped Apparently he needs it for something else Do you see now? You have to stop him Him and Williams No matter what Juan I can't control when I turn Any moment now I can When you feel something happening Just get to a UV light I can't stop them alone Aiden Okay Okay let's get him Now you're talking like the Aiden I know Frank's taking Juan and Matt to the stronghold He wants to meet with the butcher What? I had the same reaction But he says that after the bombing Williams contacted him And that he wants to talk Has Frank lost his mind? And that's why I'm going to cover their idiotic asses You go to the Fisheye Maybe you can still talk Frank out of this stupid idea If that doesn't work I won't be far Vediamo se a monster ora muoiono tutti Per colpa di sta cazzata Aiden Nobody can know About Veronica Remember I know it wasn't you who did that But Jack The peacekeepers They won't give a shit They can't stop us They won't Certo perché se sanno che lui comunque si trasforma Eeeh E c'è questo casino Justamente lo accoppano Letteralmente lo accoppano Allora noi abbiamo il teletrasporto Quindi è inutile che ci facciamo tutta la strada a piedi Easy Ci teletrasportiamo Facile facile Non ci sono Medipack di qua No Oh my god Frank 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 Do you copy Allora Saliamo E andiamo a vedere Frank Cosa sta combinando Ma la luce la possiamo spegnere Ma ci sono quelli che ballano If you have injured in the fisheye We have medicine and food for those in need Contact us by radio Or display a flag on your building The Night Runners are back Oh Frank Aiden You're in one piece Frank If you're going to the stronghold I'm going with you Kid Stop Sit down and listen to me You saved a lot of people If it weren't for you I wouldn't been able to warn anyone But I don't think it's a good idea for you to come This isn't about Waltz The stakes are too high What do you mean? Look I'll tell you But this has got to stay Just tell me There will be more missile attacks Aiden William says Most of the central loop Will be destroyed You understand? Is that a threat Or a lie? We won't find out Unless we sit down to talk Then what if it's a trap? Aiden Listen At the start of the pandemic Villador was one of 20 cities To be isolated by the GRE Do you know how many of them Survived so far? None Except for ours They were all blown up When the virus got out of control Villador was saved Because someone stopped the bombings And I think it was Williams I don't trust the Butcher or Waltz, Frank I want to go with you If things go south You could use some backup Okay I know I can't stop you You'll go with us But stay cool and do what I say Is that clear? Gli spasmi sono sempre più frequenti Comunque Ecco Oh no Chi è quello? Ma Ah no Questo è il passato Quando mi sono trasformato Con il tizio dei pacificatori Ultimo flashback Eh che c'era il comandante Hator Quindi Hator lo sa Hator sa che mi posso trasformare Ora Frank se n'è andato senza di me Hey Hey We can't wait any longer We need to get moving You okay? Open up Renegades will be here any minute Are you sure you're okay? Yeah, it felt worse Certo però Agli spasmi Sempre più frequenti Ah guarda E' di tutti Mi sa che lo sanno Ma guardano strano No eppure Tipo una festa della fine del mondo Praticamente quasi Oh Guarda gli c'è Where's Matt? He here? Or will he be fashionably late? Matt's upstairs Waiting Come on Aiden buddy Good to see you alive For likewise Nicholas Man, wouldn't be if it hadn't been for you They say Hell, everyone here be dead by now Later amigo Sometimes they stay out too long I get the feeling that there's no more left in the city Or will there's no more left in the city Or will there's no more left here Or will there's no more left here Or will there's no more left here What did she say? All right This is fucked Frank What if it's a fucking trap? We need to strike back at the motherfucker Before he burns his city to the ground See this is why we're screwed This fuckhead is just gonna make a bad situation worse It's enough William says there are more missiles If he knows that He might know how to stop them So See I'm gonna dress up real nice And go to his island On our very best behavior Now move your ass, Matt Only fucking kick his Off to the slaughter Mi fido di Frank 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 È stato uno Uno figo All'inizio Non era Non era un granché Era un pezzo di merda Invece Adesso Cioè Nell'ultimo periodo Si è comportato Veramente bene E Quindi Merita tutto Merita tutta la fiducia Tutto il rispetto Che Che gli posso dare In questo momento Ah ma sono tutti là sopra Eh Pensavo fossero tutti sotto Invece Sono rimasti A mezz'aria Dio Ah giustamente Si stanno incontrando No No Non sapevo che succedeva Una minchia del genere C'è qualcosa Che gli sta dicendo Frank Non Margaret, la healer, può aiutare. Dividi questo a lei. No, Aiden, ti lascia andare, la butchera si troverà con uccidere Frank. Vuoi salvare Frank, vai ora. No, me ne prego della vendetta. Non so niente. Qua dobbiamo salvare Frank, c'è poco da fare. Aiden? Sei qui? Cosa sta succedendo? Aiden! Renegades attaccati, Frank fu fuori. Poisoned arrow. È lui? Ci saranno bene. I'm going to an herbalist per un antidote. I'm going after the Butcher. I'm gonna kill that murdering son of a bitch. No, Luan. Go to Frank. He needs you now. I have to. Leave the Butcher and Waltz to me. Take care of Frank. Fine. Get them both. For Mia. And for Frank. Esatto. For Mia. And for Frank. Così possiamo... Praticamente abbiamo la vendetta per entrambi. Cioè, salvo Frank e nel frattempo lo vendico. Perché una volta preso l'antidoto... Ehm, come fa a farglielo vedere se c'è l'antidoto? Ehm? Shhh! Margaret? You sure the renegades did this? Yes. Why do you ask? Aiden, do you have the antidote? Not yet, but... The poison's stronger than we thought. Frank won't last much longer. I need this antidote. Fast! Pass me the jar. The one with the green herbs inside. And then... You can smell it. You smell it? The same smell. The renegades use curare. It is odorless. Not bitter smelling like this one. Just tell me what I need to find. This is sacred violet. You need aquatic herbs to nutrition. To neutralize it. Five pieces are needed to counteract the poison. They grow beneath the waters nearby. Mix them with this before administering it. To neutralize it. Please don't leave me here. Please don't leave me here. Please don't leave me here. Okay, they are close. Okay, they are close. Okay, they are close. Sì, è pronto, Aiden Ho l'antidarko, per il mio cammino Noi... ...nei un bravo, forte comandante come Matt... Oh! Oh! Got it? Yeah, I do. Give it to me. Ayn. Ayn. You have a promise to keep. Remember? I won't break it, Frank. Don't worry. Out of my way. Drink of this. Okay. Come on. Come on. Frank? Frank? No, 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 no! Frank, por favor! Fight, you bastard! Fight! Oh, fuck! Jesus! Oh, you're back, Frank, it's alright. Breathe, breathe. Breathe, okay, okay. I'll chop off Williams' cock and jam it down his throat. The healer said something odd. What? She said the renegades don't use this kind of poison. They do now. Yeah, but why would they try to kill Frank if Williams wanted to talk? Because it was a lie. I'm going to the stronghold. Esatto, ci vado io e vado di invagare. Ask Jack for help. He knows a way into the stronghold. Aiden. Don't fuck this up. And that's a promise. Okay. È detto questo. Jack? Juan told me you know how to get into the stronghold. Go, boy. Get on the roof, Aiden. You can track the signal from the van better up there. Okay. I bribed the renegades driver. He'll be expecting you. He'll take you into the stronghold. Who is it? Someone easy to blackmail and control. You'll see. Why didn't you stop him before? I tried, but the fucker panicked after the shooting. Fortunately, we have the transmitter. Get to the roof before the signal fades out. Let's go. Haha, yeah. Bye. ma io volevo staccare va bene inseguiamo il furgone poi stacchiamo guarda caso tutte le correnti d'aria favorevoli ok dai che ci stiamo avvicinando c'è l'aria c'è l'aria e ma il fudone è qua ok allora siamo arrivati quindi a quanto pare adesso dobbiamo farci condurre alla fortezza quindi per il momento è tutto io direi che posso staccare e ci becchiamo alla prossima bye bye